parla di un soldato il vangelo di giovanni giovanni 19,34 parla di un soldato che trafigge con la lancia il costato di gesù pendente dalla croce poiché gesù è già morto dalla ferita escono sangue ed acqua il nome di longino dal greco lancia è dato oltre che a questo soldato anche al centurione il quale dopo la morte di cristo confessa che costui è veramente il figlio di dio marco 15,39 queste notizie non sono travisate o addirittura inventate dalla leggenda commento certamente ma è proprio questa la meraviglia della legge queste notizie servono a chi ne ha bisogno